Come si chiama? Carla. Piacere telecamera, che io l'ho detto già. Piacere, signora telecamera. Cosa fa? Cosa faccio adesso o cosa faccio in generale? Cosa fa in generale? Allora, in generale per lo Zecchino d'Oro noi prendiamo i nominativi dei bimbi che vogliono venire a fare il pubblico. Lo sai che allo Zecchino d'Oro c'è un pubblico solo di bambini, senza i genitori? Sì, e i genitori li vedono dal teatro. Il teatro, bravissimo. I bimbi invece entrano in studio e quindi noi prendiamo tutti i loro nominativi per tutte le cinque giornate. Che delle volte io lavoro? Per lo Zecchino d'Oro? Come telecamera. Sempre lavorano lo Zecchino d'Oro le telecamere. Grazie. Ciao. Ciao, arrivederci. Io sono telecamera e passo il tempo girando all'Antognano.